... Bentornati nella zona bianca di Rete4. Ora parliamo del Vespaio che è stato alimentato dal video di Beppe Grillo. Vittorio Sgarbi l'avete già visto in studio. Ora sono con me, Sabrina Scampini. Grazie per essere con noi nella zona bianca. Mario Adinolfi. Leggo su Wikipedia scrittore, giornalista, giocatore di poker. Poi spiegheremo perché. Fondatore e presidente del movimento Il Popolo della Famiglia. È collegata con noi anche Rita Dallachiesa. Spero di non aver dimenticato nessuno. Saluto Vittorio Sgarbi. È rimasto con noi Del Mastro. 16 luglio 2019. La data del presunto stupro di cui si sarebbe reso responsabile Ciro, il figlio di Beppe Grillo. Ebbene, Beppe Grillo ha inveito con una intemerata che vi facciamo rivedere ancora una volta. mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale, quindi insieme a altri tre ragazzi. Io voglio chiedere, voglio chiedervi, voglio chiedere veramente, voglio una spiegazione perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio dentro, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che gli stupratori vengono presi e vengono messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. E io sono stupro che sono due anni. E se dovete arrestare mio figlio perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera. Un attacco violentissimo ai giudici della parte che non ti aspetti, dalla parte di chi ha usato i processi, ma anche prima ancora dei processi, le notizie di reato come una clava. Viglio addirittura di Nolfi. Poiché qui manca il rappresentante di Grillo, un po' mi dispiace perché sarebbe utile ascoltare le loro parole. Non si fanno facilmente intervistare. Guarda, noi abbiamo invitato numerosi rappresentanti leghisti e tra l'altro, tra un po', Grillini, e tra un po' ascolteremo Toninelli, che ci darà una sua visione della storia. Per cui bisogna stare attenti anche a questa goduria, diciamo così esplicitata per la caduta di uno che comunque ha fatto la storia in questo paese. Il problema è che l'ha fatto svolgendo un ruolo di figura paterna. Attenti, Grillo non è mai entrato in Parlamento, Grillo non ha mai avuto l'ambizione di giocare per se stesso. Ha voluto giocare alla figura paterna, o forse demiurgica, lui si definisce l'elevato, con un riferimento che è... Paterna del figlio, scusami. Paterna del figlio. Paterna del figlio. Questa dimensione paterna evidentemente la leggiamo. Con la stessa empatia che diceva Rita della Chiesa, io ho visto per la prima volta il filmato, perché indubbiamente li travolge. Si travolge se sei padre, ci pensi, al fatto che se io fossi nelle sue condizioni... Poi ho capito un passaggio in più che è più interessante ancora, secondo me, del mero passaggio che bello sta arrotolando nella merda, adesso siamo tutti felici e ci accaniamo addosso. In realtà sta fallendo l'elemento paterno. Quel video è orrendo non solo per la questione giudiziaria in sé, ma perché dice ai ragazzi di questo paese, alle ragazze di questo paese, che quella modalità è una modalità di divertirsi. Esatto. Questo è impressionante dal punto di vista valoriale. È impressionante perché fa capire che il fallimento è nella dimensione educativa. Se tu hai allevato così i tuoi figli, come hai allevato la tua classe dirigente? Io ho sempre avuto l'impressione che il successo di Grillo derivasse dalla sua capacità di essere totalmente avaloriale, di prescindere dai valori. Questa è la sua forza, è stata la sua grandezza, perché gli ha permesso di prendere i voti trasversalmente a tutti e non avendo una radice propria a cui rifarsi. Non è testa, non è sinistra, è una novità, è elevata. È l'elevato che però poi a queste cadute... ...di termine sono l'elevato. L'elevato poi alla fine, no? Dimostra quanto nella blasfemia si nasconda l'assenza di valori. L'assenza di valori. Sabrina, Sabrina Scampini. Il messaggio è che fanno le brave ragazze. Ci mancava solo che dicesse te la sei cercata e avevamo chiuso. Te la sei cercata era però anche sottointeso nel fatto che lei fosse stata consensiente. Era diverso? No, infatti no. Era diverso se era consensiente. Sicuramente no, ti fermo un attimo, Sabrina. Il messaggio è di una gravità devastante. Era diverso la cosa. È devastante. Non accaditevi sul filo, accaditevi sul messaggio. Direi che siamo tutti d'accordo su questo. Adinolfi diceva manca la controparte. Noi l'abbiamo cercato, gli esponenti grillini. Nessuno ha voluto parlare tranne uno che abbiamo incontrato, abbiamo intervistato. Toninelli, lo ascoltiamo? Ma guarda, esprimo totale solidarietà a Beppe Grillo come padre della sofferenza che sta subendo e un totale disprezzo nei confronti di quelli che fino a ieri erano i garantisti anche quando beccavano un politico con la mazzetta in mano. Però voi fino a ieri eravate giustizialisti. Lasciami finire. Anche questi garantisti qua, sia politici che organi di informazione. Scusi, voi come partito avete votato e voluto il codice rosso per esempio che permette anche ad una donna di denunciare più tardi perché non è facile arrivare a denunciare una violenza. Quindi il fatto che Grillo critichi in un certo senso che questa denuncia sia arrivata otto giorni dopo come se si trattasse di un tempo grandissimo. Sto sbagliando l'approccio anche lì perché allora se io prendo ogni singola parola da un suo intervento un suo, un suo o di chiunque altro la estrapolo dal discorso generale quella parola può essere non completamente precisa. Se io invece devo fare questo come cittadino, come padre come amico e come politico e devo valutare tutto il suo discorso lui ti fa un discorso generale dicendo vada in galera un cazzo di stupratore se mio figlio è un stupratore deve essere là ma è due anni che ci tenete a soffrire però nei confronti della vittima non ha adoperato nei confronti della vittima non ha adoperato delle belle parole ha detto il giorno dopo andare a fare i kitesurf cioè comunque oltre al dolore di un padre anche il dolore forse di una famiglia che probabilmente ha vissuto sta vivendo un'altra tragedia totale vicinanza a chiunque qualunque donna abbia subito qualsiasi tipo di violenza ma altrettanta vicinanza nei confronti di quelli genitori di quelle persone che stanno soffrendo perché sono messe sulla gomma mediatica insomma quando parla Torinnelli non lascia mai indifferenti come avete visto dalle reazioni dei nostri ospiti e invoca l'immunità parentale è la tomba morale è il peggior epitafio morale sulla tomba politica della infausta parabola dei cinquatelle che è ignobile ignobile qui tornate a quello chiede l'arresto del figlio no 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 quello è lo strumento retorico e qui torniamo qui torniamo alle cose alle cose che ha detto ho dato il governo con Draghi quando è che finisce sta storia allora e qui torniamo a quello che diceva che diceva che insinuava tra virgolette Sgarbi cioè che le parole di Grillo siano in qualche modo uno sfogo ma avete tenuto la spada di Damocle perché non l'avete arrestato il primo minuto del video è interessantissimo non dice voglio l'immunità parentale ma perché è ignorante dice perché non me l'avete arrestato ma lo dice perché è ignorante la misura cautelare non era necessaria ma perché mai avrebbero dovuto arrestare sarebbe stato assurdo infatti io voglio qualcosa di preciso con la leadership di Conte qualche cosa di diverso rispetto a quello che sono state all'inizio ma l'hai chiamato i grillini ho seguito qualcosa di diverso è difficile diciamo 5 stelle nel senso che nell'ultimo anno ma io credo che sia un danno anche per il proprio figlio perché poi alla fine è lui che ha spettacolarizzato un evento è vero che i giornali ne parlavano ma è lui che l'ha messa nelle prime pagine di tutti i giornali su tutti i telegiornali l'ha messa nelle prime pagine perché ha saputo del rinvio a giudizio probabile quindi va lì e dice perché non me l'avete arrestato e lo ripete dieci volte e la ragione per cui non gliel'hanno arrestato era per tenerlo con la spada di Damocle e fargli subire qualsiasi passaggio fino al governo Draghi costringendolo ad accettarlo Vittorio Vittorio Sgarbi Sgarbi fermo un attimo Ricci poi torno al governo Draghi a lui personalmente Vittorio Adinolfi ha esplicitato quello che in qualche modo avevi detto tu nel tuo primo intervento ma che c'entra il governo Vittorio ma sai sentire Torinelli è meraviglioso perché è un uomo il cui disordine mentale lo porta perfino a ignorare quello che accade in Parlamento perché ieri il capogruppo della 5 Stelle ha rinnegato il capo Grillo e ha detto che loro sono con la ragazza che loro sono con i magistrati per cui c'entra perché uno che educa un figlio che fa cose come queste non può essere un buon politico a parte un uccidio colposo può essere quindi guardate il video c'è qualcosa che è all'inizio alla fine del video ci sono dei messaggi precisi dei messaggi precisi Grillo dice che io sono stato buono ho fatto quello che volevate perché non avete fatto allora se è quello che dice guardate la dice da qualche minuto credo che questo sia puramente lo sfogo di un padre non pensato senza riflettere perché dice delle inesattezze e ha delle incongruenze che non sono pensabili in un uomo comunque che è stato il fondatore di un partito non conosce proprio le basi ma io non credo che lui non le conoscano penso che lui proprio in questo caso non gli interessino perché gli interessa solo difendere il figlio così come fa la madre ma questo è un messaggio più sbagliato che possono dare soprattutto al figlio di non rendere lui doveva solamente tacere stare zitto aspettare il processo e poi magari parlare dopo magari allora lo stava facendo luglio 2019 stava ancora il governo con Santini poi fa il governo col partito di Bibiano improvvisamente ad agosto era il partito di Bibiano a settembre ci ha fatto il governo insieme e è stato zitto sul caso del figlio che già era lì ma cosa avrebbe dovuto dire il figlio accusato di scopro cosa avrebbe dovuto dire aspettato aspettato ma cosa avrebbe dovuto dire se non interveniva Grillo quello che voi avete intervistato Danilo Toninelli fece un posto dicendo non ci convincete mai e poi mai a votare Draghi dovete scendere Grillo a Roma e portarli tutti a votare Draghi ma non può essere non c'è stato nessun accanimento nei confronti di Grillo non c'è stato accanimento nei confronti di Grillo la domanda adesso è un'altra però la domanda adesso è un'altra la domanda adesso è un'altra io la pongo a Vittorio Sgarbi ma allora visto l'imbarazzo anche dei grillini nel rispondere sì o no a una domanda semplicissima ragione o no Grillo è la fine di tutto per davvero per il movimento dei grillini Vittorio sì è una grande festa per l'Italia è finito il grande inganno non è che ha delle possibilità che non ha più nessuna possibilità come padre si può comprendere ma come politico ha segnato il suo fallimento ed è stato rinnegato da quelli che tu hai intervistato e dal capogruppo come prima dicevo alla Camera e abbia voluto in qualche modo mettere sul banco degli imputati le ragazze e questa è una vecchia vecchia strategia che chi conosce questo tipo di processi sa benissimo che viene spesso utilizzata e cioè si cerca di puntare il dito sulle vittime si cerca di scambiare il ruolo e cioè le vittime diventano imputate gli imputati diventano vittime e tutto questo ovviamente è stata una grande sorpresa anche perché le ragazze sono state in questi mesi assolutamente silenziose diciamo al danno della procura una cosa che due anni per arrivare a sto rinvio a giudizio sono un po' strani però è un'altra cosa che qui c'è questa teoria adesso vogliamo dire che siamo campioni nei tempi della giustizia non possiamo dire che sia solo grillo non è solo il caso di grillo con il video però vogliamo ricordare come dice buongiorno un ascolto vogliamo perché è una procura efficientissima è una procura bisogna sottolinearlo lo dice la buongiorno che l'ha fatto uscire e lo so e qui ti volevo però la buongiorno parla da leghista no no quindi parla da leghista dai ragioni a Toninelli non da avvocato la buongiorno abbia un interesse anche politico in questo processo non si può negare l'evidenza dei fatti ragazzi mi faccio dire una cosa è ovvio che la buongiorno ha anche un interesse politico sarei per dire quasi legittimo ma il punto è due anni per ascoltare un testimone questi due anni qua una procura che è quella di Tempio Pausania dove vanno un giorno a settimana perché non c'è niente lì praticamente Adinolfi lo vedi Gasparri Gasparri che chiama Gasparri no scusi allora chiamo perché questa storia del complotto contro Grillo della procura di Tempio Pausania non si può sentire i tempi purtroppo della giustizia sono lenti non si può sentire non si può sentire questa cosa il sistema fa schifo l'ha detto nel libro Sallusti mi fa parlare questa tesi di Adinolfi e mentre quella sul padre cattivo educatore la condivido questa di un complotto per ammorbidire Grillo è ridicola voglio dire anche un'altra cosa a Toninelli e anche a Adinolfi Giulia Buongiorno sui temi della difesa delle donne che subiscono violenza ve lo ricorderete è attiva da molti anni ha fatto associazioni campagne di stampa ben prima di quando si candidasse fammi finire di parlare fammi finire di parlare la Giulia Buongiorno si occupa di queste cose come tutti occupi di altre questioni della difesa della famiglia e di altre questioni la Giulia Buongiorno insieme alla Unziker ha fatto un'associazione che per anni ha fatto campagne di stampa e di televisione ben tornati nella zona bianca ci fermiamo qui con questa puntata di zona bianca è la zona bianca che vi aspetta ancora la settimana prossima mercoledì vi lascio a confessione reporte con Stella Pende grazie a tutti i nostri ospiti grazie a voi che ci avete seguiti da casa buonanotte a tutti grazie a tutti